Una vita con le valigie in mano, giocatore prima, allenatore poi, tra i più giovani di sempre. Ha scelto la panchina a 27 anni perché, dice, era stufo di sentirsi dire che cosa doveva e non doveva fare. Di qui la scelta di diventare coach. Io volevo imparare molto di più e vedevo che gli allenatori non davano a me quello che speravo. Per cui ho detto adesso voglio insegnare io e vedere se riesco a far fare agli altri le cose che avrei voluto fare io. Una vita che ora è diventata un libro, la mia Itaca, presentato davanti ad illustri ex colleghi a Palazzo Labia, sede della RAI del Veneto, su iniziativa del Panathlon Club Venezia. L'idea nasce dal fatto di ricapire cosa ho fatto di buono e tutte le cose meno buone che ho fatto. Capirle e vedere se riesco a non ripeterle. Ci vuole raccontare qualche aneddoto? Come è stato essere allenato da lui? Avevo 22 anni, ero appena dall'università e per me era una cosa molto bella vedere con l'allenatore con questa passione che mostrava sempre. Parlare di basket degli anni 70 e 80 non può certo che far riflettere sulla pallacanestra attuale. Da un punto di vista fisico non c'è dubbio che il basket attuale sia nettamente superiore a quello degli anni 70 e 80. Da un punto di vista tattico è innegabile che la preparazione alla partita e l'aspetto tattico siano nettamente a favore di quegli anni lì.